Rischia di scoppiare una nuova sindrome rumeni dopo i fatti della famiglia Ambrosio. Nella zona della Gaiola è scattata anche la paura per la mancanza di sorveglianza e di telecamere che possono controllare soprattutto nelle ore notturne. Intanto arriva notizia di due minori di nazionalità slava nel campo Rom di Teverola, rispettivamente una ragazza di 15 anni e di un complice di 14, che sono stati arrestati dopo aver commesso il furto all'interno di un'abitazione in via Caravaggio a Napoli. L'intervento è stato effettuato da un agente della polizia libero dal servizio. Il poliziotto, mentre camminava in via Caravaggio, è stato attratto dalle urla di alcune persone visibilmente agitate nei riguardi di una coppia di nomadi. Subito dopo essersi qualificato, il poliziotto ha accertato che i minori erano riusciti frettolosamente da un condominio poco distante dopo aver visitato un appartamento del terzo piano. I due avevano portato via soldi, gioielli, alcuni abiti e una telecamera. I minori, sorpresi in flagranza all'uscito del condominio, sono stati bloccati dal portiere dello stabile, mentre tentavano di scappare. Nelle borse è stata trovata la rifurtiva a 300 euro, sottratti da un portafogli, una telecamerina digitale, due profumi e alcuni gioielli. Il tutto consegnato alla proprietaria al momento della denuncia. Dagli accertamenti effettuati è emerso che i ragazzi avevano precedenti specifici per furto e già fermati in altre occasioni avevano fornito false generalità.